Paolo Mazzoli, presidente dell'RBR, avete acquistato la totalità del titolo, che cosa comporta per la società? È un bel passaggio, è un bel momento perché era il titolo storico che appartiene alla città di Rimini, era importante riassociarlo alla squadra che adesso sta giocando a Rimini, a questa società, quindi direi che è un passo importante per la conferma e per la crescita del basket a Rimini, che ha una storia, come dimostra questo titolo, molto importante, ma credo possa avere un futuro altrettanto importante, altrettanto in soddisfazione. Nella conferenza stampa ha parlato anche dell'ingresso di due nuovi soci, possiamo introdurli e far sapere anche chi sono? Entrano altri due soci, sono altri due soci importanti, uno è Luca Vici che è l'amministratore della Vici di Sant'Arcangelo, l'altro è Andrea Mainetti che è l'amministratore, presidente e amministratore di Fotosì di Riccione, credo sia la conferma del fatto che anche in questi momenti un po' difficili, questo è un progetto che sta continuando a crescere, è una società che si sta diventando sempre più solida ed è una società che ha un progetto a lungo termine, che non si pone limiti alla crescita. In vista dei nuovi campionati ci potrebbero essere delle sorprese, Rimini sarebbe pronta per un salto in A2? Dobbiamo vedere, lo stiamo discutendo e nel caso ci fosse l'opportunità, ma adesso diciamo che questo si verificherà entro un mese, un mese e mezzo, dobbiamo certamente essere pronti e valutare se valga la pena passare in A2 in questo modo, quindi iscrivendosi al campionato di A2 se ci sarà la possibilità, oppure se guadagnare l'A2 in campo con il supporto dei nostri tifosi, con il supporto della città.